allora buongiorno di nuovo a tutti e a tutti benvenuti benvenute della comunicazione quest'anno interamente dedicato al tema dei filtri e dei filtri filter and filter sul tema della filtrazione oggi viene in prima battuta il professor remo gramigna con un intervento intitolato filtri maschere inganno l'assemina è un docente nonché assegnista di ricerca nel gruppo facets nel quale è oramai al suo quarto anno di ricerche ha alle spalle una formazione internazionale che è passata soprattutto dall'università di tartu molto nota perché è una decennia della semiotica al suo attivo numerosissime pubblicazioni molto delle quali di respiro internazionale e sta a lavorare tra le molte cose anche ad un volume proprio sul tema delle maschere in realtà diciamo sul tema del deepfake però con teori a tema della maschera che è un tema che diciamo lo lo interessa da molto il tema dell'inganno qualcosa che poi si lega ad un pass diciamo analizzato i testi di agostino dal punto di vista semiotico proprio in relazione la semiottica della della minzoni e non per l'altro tempo lascio subito la parola remo ti ringrazio per questo tuo intervento grazie mille buongiorno a tutti a tutti sono molto felice di essere qui con voi sebbene in forma telematica spero mi sente mi sentiate bene e che mi vediate anche bene come diceva il professor leone faccio parte del team facets da ormai qualche anno e sono assenista di ricerca presso il dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione dell'università di torino vorrei iniziare la presentazione di oggi essenzialmente riprendendo il duplice significato della nozione di filtro che era stata in qualche modo già ripresa dalla durante la presentazione di questo corso da parte del professor massimo leone effettivamente già nella call for papers come ricorderete quindi nella presentazione di questo corso si faceva riferimento a questo duplice senso del termine e quindi della nozione di filtro che vorrei riprendere con voi brevemente prima di tutto abbiamo dunque il significato di filtro inteso come meccanismo di filtraggio come appunto filtrare la il dizionario treccani vi fornisce la seguente definizione nella prima accezione del termine come segue cioè che si parla di filtro in questo caso derivante dal termine filtrum e designa essenzialmente diciamo un corpo di materiale opportuno come per esempio appunto un feltro oppure un panno di lino eccetera il cui scopo è quello di appunto filtrare cioè di trattenere alcune particelle solide che sono sospese nel liquido stesso ma giustamente si faceva notare nella presentazione del corso che vi è anche una seconda accezione di questo termine che ha una differente diciamo etimologia quindi filtro come essenzialmente filtro magico in modo particolare si fa riferimento dunque all'ambito della magia della della fascinazione quindi alla capacità in qualche modo di suscitare o di spegnere alcune passioni in modo particolare la passione dell'amore quindi questi erano diciamo gli ambiti a cui si faceva riferimento dobbiamo però naturalmente a questi due significati aggiungere anche diciamo un terzo un terzo termine che è quello appunto del filtro inteso come effetto visivo in questo caso parliamo essenzialmente come si è già fatto riferimento nelle varie lezioni dedicate a questo tema essenzialmente a cosa facciamo riferimento alla manipolazione delle immagini soprattutto immagini e digitali attraverso dispositivi specifici che vengono appunto chiamati filtri o effetti o lenti dunque nella prima parte della mia presentazione mi occuperò della nozione quindi di filtro intesa nella prima accezione di questo termine quindi inteso come filtrare e come separare nella seconda parte poi del mio intervento invece mi soffermerò sulla nozione di filtro inteso come appunto manipolazione dell'immagine quindi in senso più tecnico come effetto visivo che deriva appunto dalla manipolazione di immagini digitali prima giustamente il professor massimo leone faceva riferimento un po agli ambiti di ricerca che mi pertengono infatti durante questi anni di ricerca mi sono infatti occupato di questo nesso tra maschera e volto in modo particolare mi interessano e mi sono interessato dell'espressione e del nascondimento del sé attraverso il volto appunto il problema della manipolazione del volto che viene effettuata attraverso varie tecniche la maschera il deepfake i filtri eccetera eccetera quindi in generale mi interessano diciamo le tipologie e le forme della maschera proprio di recente infatti mi sono occupato e mi occupa ancora di queste maschere digitali in modo particolare nell'ambito dei cosiddetti deepfakes quindi le forme di falsificazione e di manipolazione del volto nel mondo digitale dunque questo è un po il mio background e dunque questo spiega anche diciamo l'indirizzo che vorrei dare a questa presentazione infatti mi interessa molto capire essenzialmente diciamo le interconnessioni e i dialoghi tra questi due concetti il concetto di filtro è il concetto di maschera si potrebbe parafrasare questo interesse di ricerca in questo modo essenzialmente il filtro inteso come maschera è la maschera intesa come filtro la struttura quindi l'ossatura della mia presentazione segue essenzialmente questa logica dopo una diciamo introduzione in cui essenzialmente e contestualizzo questo concetto in modo particolare nel panorama attuale passerò poi in rassegna una sezione dedicata diciamo al problema della semiosi e dei filtri cioè mi soffermerò su quei modelli di semiosi che in qualche modo sia in forma esplicita e che in forma implicita hanno in qualche modo sottolineato questo aspetto nella seconda parte poi della presentazione e farò uno scivolamento dal teorico al pratico passerò diciamo in rassegna quella che è un po la letteratura scientifica relativa ai filtri digitali in modo particolare ai filtri digitali usati nei social media e poi passerò alla presentazione di un caso di studio che ritengo sia particolarmente significativo se passerei dunque abbastanza velocemente alla parte introduttiva che fa un po da preludio a quello che vi dirò di seguito come avrete forse letto questo è essenzialmente l'abstract della mia presentazione tra le parole chiave alcune già sottolineate nella generosissima introduzione fatta dal person leone abbiamo termini quali filtri digitali immagini alterate contraffazione manipolazione di immagini eccetera bene un esempio pratico proprio soprattutto nel mondo accademico e nel mondo diciamo dell'editoria in generale di filtro e di filtraggio delle informazioni è costituito proprio dall'abstract infatti come dire tutti noi i docenti e assegnisti di ricerca dottoranti eccetera abbiamo dovuto presentare quindi inviare un un abstract che presentasse in qualche modo il nocciolo della nostra presentazione un abstract non è altro che appunto un modo per selezionare appunto l'informazione saliente lasciando da parte tutto il resto naturalmente è sufficiente leggere un abstract per capire il topic di un saggio e poi decidere appunto sulla base di questa selezione appunto di questo filtro se leggerlo oppure no se è interessante per noi oppure no dunque l'abstract è un esempio pratico appunto di come abbiamo deciso di filtrare le nostre informazioni per uno scopo specifico questo per dire cosa per dire che essenzialmente i meccanismi di selezione di decomplessificazione dell'informazione e dunque di riduzione del complesso al semplice sono tutti i meccanismi che essenzialmente hanno una diciamo funzione pratica una funzione che ci rende capaci di agire nell'ambiente circostante dice bene infatti eli parisier l'autore di questo famosissimo book cult dedicato appunto al tema delle cosette filter bubbles come scrive quest'autore cito dall'originale in inglese a filtering is inevitable a fact of life no one can see here or read everything in the course of any hour let alone any day every one of us engages on massing massive filtering simply in order to make life life manageable and coherent quindi il processo di filtraggio è qualcosa che rende la vita effettivamente coerente e soprattutto diciamo gestibile infatti dal punto di vista cognitivo esistono vari meccanismi che ci aiutano in questo filtraggio come fosse ricorderete vi sono stati due autori abbastanza famosi anzi molto famosi robert shank e robert abbelson che nel 1977 hanno pubblicato un libro che è diventato appunto un altro book cult che è dedicato proprio al alcuni concetti chiave quale script plans and goals and understanding ora appunto il concetto di script che è stato poi ripreso successivamente anche da umberto ego nei suoi saggi di semiotica lo script non è altro che un modo per gestire informazione e per filtrarla in maniera accurata quindi dal punto di vista cognitivo appunto anche gli script non sono altro che 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 una semplificazione delle operazioni necessarie per raggiungere un determinato scopo quindi in genere gli script seguono una economia cognitiva particolare facendoci risparmiare tempo e energie eccetera eccetera allo stesso tempo anche tra parentesi bisogna anche dire che gli script hanno molto di culturalmente e socialmente codificato dipendono da diverse culture eccetera eccetera anche le routine potremmo dire che rappresentano diciamo esempi di economia cognitiva di meccanismi di filtraggio a questo proposito cito molto brevemente questo simpatico libricino scritto da un giornalista che si chiama mason kerry che si chiama daily rituals how artists work che è stato tradotto in italiano con il titolo rituali quotidiani carrie in questo libro propone una sorta di disamina una sorta di elenco dei vari appunto rituali delle varie routine in particolare che vengono usati da molti scrittori famosi da moltissimi artisti famosi i quali appunto semplificavano la loro giornata quindi utilizzando un template specifico che era appunto quello della routine a titolo esemplificativo possiamo ricordare la giornata ideale di benjamin franklin per esempio che ci mostra bene qual è il potere della routine nell'organizzazione del tempo dello spazio come si vede dal dallo schema partiva si si svegliava molto presto circa le 5 di mattina e si poneva la domanda di che cosa avrebbe fatto di buono in quel giorno e chiude poi la serata nel chiedersi che cosa ha fatto di buono in quel giorno ma vi sono moltissimi e interessantissimi esempi di routine e di appunto filtraggio del tempo in questo in questo libricino e quindi quelli riportati in questa fase introduttiva sono essenzialmente esempi e esempi di vari di vari tipi di filtraggio vorrei adesso porre un paio di domande introdurrò la prima con una immagine quella che vedete quello che vedete è il lavoro di un giovane artista coreano che si chiama appunto kim don kyu secondo me questa immagine racchiude bene il senso della nostra epoca infatti rappresenta questa ritualità questo gesto banale che è un po diventato alla portata di tutti estraiamo il telefonino dalla nostra tasca scattiamo un selfie e lo postiamo sui social media quindi ci sono io nel lic e nunc che faccio per esempio oggi una presentazione all'università di torino faccio un selfie condivido questa esperienza con la mia rete di amici e scattando appunto una fotografia prima si parlava di rituali quotidiani dei grandi scrittori ebbene questo è il nuovo rito quotidiano la nuova liturgia digitale lo specchio del sé nell'era dei social media scrive bene joan von kuberta in questo bel libro che si intitola la furia delle immagini e facendo un po il punto sulla questione attuale infatti secondo von kuberta abbiamo raggiunto una sorta di ipertrofia di immagini quindi una sorta di produzione di immagini per eccesso riprendo verbatim le parole di von kuberta che scrive per la prima volta siamo produttori e consumatori di immagini e l'accumulo simultaneo di questi fattori ha provocato una valanga iconica quasi infinita attraversiamo quindi un'era nella quale le immagini sono comprese nella categoria dell'eccesso un'epoca in cui parliamo di una produzione di massa che porta come conseguenza la sfissia piuttosto che l'emancipazione l'idea dell'eccesso di immagini che sembra produrre nello stesso tempo ipervisibilità e voyeurismo universale questa apparente epidemia delle immagini merita un trattamento più approfondito e critico che non implichi solo le condizioni specifiche dell'immagine ma anche le logiche della sua gestione di fusione e controllo bene prima di entrare in media stress e di discutere in modo più circostanziato della questione dei filtri facciali e delle implicazioni di questa nuova tecnologia nei vari ambiti della vita quotidiana vorrei però fare con voi un piccolo passo indietro e lo farò ponendovi un paio di domande la prima è come si è arrivati fino a questo punto il punto di cui parla appunto von kuberta questa proliferazione questa valanga iconica quasi infinita secondariamente dovremmo chiederci anche perché è importante parlare di tutto ciò parlare di filtri di filtri facciali di manipolazioni delle immagini eccetera partirei dunque dalla prima domanda come siamo arrivati fino a questo punto forse per alcuni di voi o di noi sembrerebbe scontato in qualche modo essere bombardati da immagini erigere i social media a luoghi privilegiati della rappresentazione del sé in rete essere costantemente connessi attraverso lo smartphone ritoccare le proprie fotografie su instagram snapchat tiktok eccetera quindi sembra che questo sia in qualche modo una sorta di dato di fatto ebbene vorrei invitarvi a fare invece un passo indietro e a fare un po di storia su come si è arrivati fino a questo punto quindi guardando le cose un po in prospettiva forse guardando le cose in questa prospettiva ci si accorge che vi è stato una sorta di scivolamento graduale in questa direzione quindi facciamo un piccolo passo indietro prima di addentrarci in questa questione chi in sala forse pochi hanno la mia stessa età ricorderanno che durante la nostra diciamo adolescenza vi era un gadget molto ambito che era il sony walkman tra l'altro il sony walkman è stato anche oggetto di studi importanti da parte dei cultural studies per esempio ora il walkman per quelli della nostra generazione è stato essenzialmente una rivoluzione per quei tempi perché portarsi dietro la musica camminando oppure viaggiando era in qualche modo un prodigio della natura quindi una cosa impensabile fino a quel giorno il sony walkman si basava su una tecnologia molto semplice che era quella delle audiocassette e dunque è attraverso questi due media l'audio cassetta e il sony walkman che personalmente la mia adolescenza così come l'adolescenza dei miei coetanei si è costellata di quegli eroi che sono poi diventate le influenze musicali della nostra vita ma anche le colonne sonore dei momenti più importanti penso a Kurt Cobain dei Nirvana il Wawa di Jimi Hendrix ai famosissimi adesso un po' meno prima Red Hot Chili Papers di John Frusciante i Led Zeppelin di Jimi Page ma anche autori italiani come Lucio Battisti e Mina Vasco Rossi eccetera eccetera un altro salto poi tecnologico fu la nascita dell'ipod quindi con l'avvento degli mp3 e dunque a questo punto credo che tutti voi vi stiate ponendo la seguente domanda ma perché ci sta dicendo tutte queste cose bene vi sto raccontando questa storia perché quando il fondatore della Apple Steve Jobs inventò ciò che oggi è diventato appunto l'oggetto di culto l'oggetto del desiderio l'iPhone in particolare Jobs in realtà stava pensando a qualcosa che fosse un po' diverso da come siamo abituati noi a pensare lo smartphone oggi a testimonianza di quello che dico potreste riguardare il keynote speech quindi la presentazione che Steve Jobs fece poco prima del lancio di questo oggetto di culto forse alcuni di voi ricordano questa presentazione di Steve Jobs nel 2007 quando appunto introdusse al grande pubblico il rivoluzionario iPhone ebbene Steve Jobs in quella presentazione con tono abbastanza entusiastico e orgoglioso disse che l'iPhone avrebbe essenzialmente racchiuso in un unico strumento tre cose il telefonino quindi la possibilità di effettuare telefonate l'iPod quindi touchscreen e ascolto di musica essenzialmente e internet dunque in un unico strumento si sarebbero assemblate tre funzioni con un touchscreen quindi in soldoni nel 2007 l'iPhone era pensato sembra strano dirlo oggi ma è così era pensato come un iPod che fa telefonate dunque quando nel 2007 l'iPhone fu lanciato sul mercato non vi erano apps non vi erano notifiche sui social media né tantomeno vi aveva la possibilità di scattare dei selfie postati in tempo reale su Instagram TikTok eccetera e la possibilità di poterli manipolare. Steve Jobs non poteva prevedere come in realtà sarebbero andate le cose e non poteva prevedere che questo piccolo gadget avrebbe influenzato la vita di noi altri in maniera radicale nell'arco di circa un decennio. Secondo alcuni studiosi dunque la risposta alla domanda ma come siamo arrivati finora qual è il senso di questa ipertrofia d'immagini andrebbe forse ricercata altrove e molti infatti sono arrivati alla conclusione che i social media non sono poi strumenti così neutrali così innocui come li si vorrebbe far passare in quanto essenzialmente cannibalizzano sfruttano una risorsa tanto limitata quanto essenziale che è la mente umana e che è in modo particolare la nostra capacità di prestare attenzione alle cose diversi e importanti studiosi si sono occupati di questa questione e per cui mi sento in qualche modo esonerato dal doverla sviscerare nello specifico. Per chi voglia approfondire la questione rimando al bel libro di Winfrey Gallagher Wrapped, Attention and the Focused Life e anche allo studio di Adam Alter Irresistible, the rise of addictive technology and the business of keeping us hooked tradotto in italiano con il titolo di irresistibile vi è però un punto importante che possiamo estrapolare da queste note introduttive che è il fatto che l'ipertrofia di immagini e l'eccesso di informazione sono essenzialmente dei coadiuvanti alle strategie di filtraggio quindi quello che viene chiamato spesso overload informativo in particolare mi riferisco cioè riprendo questo termine da un futurologo che si chiama Alvin Toffler che è l'autore di un libro che si intitola Future Shock, lo shock del futuro quindi all'eccesso di immagini fa essenzialmente da pendant delle strategie quindi una serie di strategie che propongono proprio come fulcro di attenzione il meccanismo di filtraggio come salva vita a questo ovvero le posso toccare solo brevemente in questo spazio della lezione di oggi Umberto Eco in particolare visto che siamo in un corso di semiotica se ne è occupato di questa questione in varie sedi in modo particolare Eco ha enfatizzato il ruolo dei processi di filtro nell'esposizione all'informazione Eco ha trattato di questa questione del filtro in un saggio che si intitola Ars Oblivionalis io stesso ho trattato di questo argomento quindi il problema dei filtri della memoria della dimenticanza della cancellazione della memoria in un altro intervento che ho presentato l'anno scorso e che si intitola volti senza volto dalla damnazio memoria alla cultura della cancellazione che è disponibile per chi sia interessato nel canale youtube dell'IRC FACETS appunto quindi non approfondirò l'argomento in questa sede tuttavia appunto sulla questione di filtri e Ars Oblivionalis Eco scriveva quanto segue che in realtà esiste una Ars Oblivionalis e si chiama cultura che è intesa appunto come memoria storica come insieme di sapere condiviso su cui si regge il gruppo e la società umana la cultura non è solo un accumulo di dati è anche il risultato del suo filtraggio la cultura è la capacità di buttare via ciò che non è utile o necessario scriveva Eco a questo proposito come già sapete Eco coniava il concetto di enciclopedia appunto che è inteso come sistema attraverso cui la cultura appunto filtra, conserva ed elimina le informazioni che non sono necessarie altri autori sono diciamo più radicali di Umberto Eco infatti ritengono che sia necessario prendere essenzialmente un ruolo più attivo in questi processi di selezione e di filtraggio delle informazioni a titolo esemplificativo richiamo per esempio gli scritti del professore di ingegneria alla Georgetown University Carl Newport che è autore di due best seller Deep Work e Digital Minimalism Newport è il fautore di una filosofia della tecnologia che egli definisce appunto minimalismo digitale che non è altro che una scelta intenzionale appunto di filtrare l'uso e l'esposizione ai social media infatti propone come strategia, come tecnica nell'uso dei social media questo escamotage che lui chiama Digital Decluttering che essenzialmente consiste nell'astenersi dall'uso di particolari gadget il telefonino in particolare ed usarlo solo per usi specifici dunque come risposta alla prima domanda che ci eravamo posti possiamo dire che la situazione che stiamo vivendo quest'oggi è stata un po' una sorpresa e che la questione dell'accesso informatico e della dipendenza dai social è stata spesso affrontata proprio attraverso tecniche di filtraggio nell'uso di questi strumenti ora brevemente passerei al secondo punto perché è importante parlare di filtri e in particolare di filtri facciali nei social media beh una risposta ovvia a questa domanda è che essi rappresentano sicuramente una pietra miliare nella storia delle tecniche di manipolazione del volto quando si parla di manipolazione del volto in genere si fa riferimento ad una vastissima gamma di tecniche di manipolazione dalla maschera al deepfake e dunque i filtri ne rappresentano essenzialmente una variante tuttavia il fatto che questi effetti siano oggi diciamo degli strumenti che sono disponibili come default nel telefonino secondo me ha essenzialmente cambiato le carte in tavola quindi la possibilità di trasformare le immagini dei nostri volti con un click è sicuramente una novità di rilievo soprattutto in relazione al fatto che sono appunto le nuove generazioni quindi i giovani i cosiddetti giovani che appunto fanno un uso massiccio di questo strumento se volessimo mettere le cose un po' in prospettiva in una prospettiva storica che fa anche riferimento alla storia del volto quindi alla fissioniomica dovremmo come dire interpellare alcuni autori di prestigio come per esempio Georg Lichtenberg perché quando si parla di manipolazione del volto in ambito appunto storico si fa riferimento alla categoria per esempio dell'attore e del cosiddetto uomo di mondo che è essenzialmente un uomo camaleonte che ha la capacità essenzialmente di usare quei tratti che vengono chiamati tratti patognomici che essenzialmente sono i tratti mobili del volto allo scopo di dissimulare questa è una distinzione che viene spesso ripresa in questi studi la differenza tra i tratti statici del volto che appartengono ad una fissioniomica quelli dinamici invece appartengono ad una patognomica e secondo Lichtenberg non solo questi tratti mobili come dire svelavano il soggetto nei movimenti non intenzionali del volto quindi posso arrossire e quindi posso svelare a chi mi osserva una certa passione però posso anche usare questi movimenti al fine della simulazione volontaria come ben potete osservare siamo molto lontani dal tipo di manipolazione di cui invece ci stiamo occupando oggi oggi il volto è un qualcosa di immateriale è una rappresentazione è un'immagine digitale è un simulacro come si suol dire spesso e quindi è essenzialmente infinitamente riproducibile è anche facilmente manipolabile e dunque questi aspetti ne fanno un qualcosa di davvero significativo e soprattutto di molto diverso rispetto al modo in cui viene trattato il volto e la sua rappresentazione nel passato per evidenziare la portata di questo fenomeno su scala globale si potrebbero un po' leggere quelli che vengono definiti dal Wall Street Journal i cosiddetti Facebook files che sono dei files che sono stati diciamo tra virgolette rubati da alcuni whistleblowers che hanno in qualche modo come dire attaccato Mark Zuckerberg e in particolare si sono proprio occupati di come alcune rappresentazioni del volto attraverso i filtri abbiano in qualche modo avuto una influenza negativa si può dire sulla psiche e sulla self image e sulla body image di moltissime teenage girls in sintesi potremmo dire che ci troviamo di fronte a un fenomeno di portata globale che ha importanti implicazioni sulla vita di moltissimi giovani e meno giovani e che sebbene riprenda alcuni elementi del passato presenta comunque alcuni elementi di novità passerei adesso alla seconda parte che è quella relativa alla semiosi e ai filtri possiamo dunque chiederci se essenzialmente la semiotica in particolare la semiotica generale se si è occupata di questo tema naturalmente essendo un qualcosa di nuovo la bibliografia specifica sull'argomento risulterà abbastanza circoscritta questo è sicuramente un vantaggio per noi che ci occupiamo di questa questione perché non dobbiamo leggere interi trattati dedicati ai filtri digitali ma allo stesso tempo pone dei limiti al ricercatore in quanto noi stessi dobbiamo costruirci diciamo dei punti di riferimento sull'argomento dunque è questo l'obiettivo della seconda parte della lezione cercare di contestualizzare il nesso tra semiotica e filtri che ho intitolato i filtri della semiosi il concetto di filtro nei modelli della semiosi innanzitutto per chi ha un interesse per la semiotica generale e chi voglia dunque approfondire la questione suggerisco la lettura di questo saggio di Martin Crampen che appunto fa una disamina di moltissimi modelli di semiosi il saggio si chiama appunto Models of Semiosis che io sappia non esista ad oggi un trattato ex professo sulla semiotica dei filtri o perlomeno non esiste ancora forse alcuni di voi lo scriveranno tuttavia esistono dei riferimenti sparsi a questo concetto alcuni di questi riferimenti sono in forma esplicita altri in forma implicita elencherò dunque senza pretesa di esaustività alcuni modelli di semiosi che secondo me fanno riferimento alla nozione di filtro già durante la prima conferenza del professor Massimo Leone dedicata a questo tema si faceva giustamente riferimento al concetto di semiosi e al fatto che la semiosi presuppone un qualche meccanismo di filtraggio se non sbaglio in quel contesto veniva chiamato in causa e giustamente il concetto di ground coniato dal padre fondatore della semiotica americana Charles Peirce quindi sappiamo che il segno è qualcosa che sta per qualcos'altro sotto qualche rispetto o capacità e in modo particolare nell'interpretazione che invece Umberto Eco da di Peirce in modo particolare nel libro Kant e l'Ovnitorinco Eco sottolinea appunto che la semiosi che nella semiosi vi è un aspetto di ciò che viene definito in inglese quindi prescindere qualcosa da qualcos'altro come già sapete Eco riprende infatti il famoso esempio dell'inchiostro che appunto Eco stesso riprende da Peirce posso predicare diverse qualità dell'inchiostro posso selezionare appunto quindi filtrare la qualità della nerezza dell'inchiostro e predicare che l'inchiostro è nero lasciando da parte altre qualità come per esempio il fatto che l'inchiostro sia liquido quindi vi sono essenzialmente dei processi di selezione e di filtraggio che sono intrinseci nei processi di semiosi naturalmente i filtri svolgono un ruolo essenziale un ruolo preponderante nei processi percettivi e cognitivi prima ho fatto riferimento ai filtri della memoria ma dal punto di vista percettivo e cognitivo percepiamo il mondo in maniera diversa quello che vedete appunto rappresentato sono vari modi di vedere il mondo da parte di diversi esseri senzienti quindi il mondo percepito da un essere umano è diverso da quello di un cane così come il mondo percettivo di un'aquila è diverso da quello di un topo e quello di un topo è diverso dal mondo percettivo di un pesce rosso quindi come ha ben evidenziato il biologo Jakob von Hükskul ogni essere diciamo vivente vive essenzialmente in un umwelt che ne costituisce appunto il proprio ambiente circostante soggettivo quindi osserviamo e percepiamo il mondo in maniera diversa a seconda anche del umwelt nel quale abitiamo penso che tutti ricorderete la descrizione che Jakob von Hükskul fa dell'umwelt della zecca che appunto aspetta per anni ed anni su un ramo in modo assolutamente buio quindi orientandosi nell'ambiente circostante attraverso la percezione dell'acido butirrico che deriva appunto dalla secrezione dei mammiferi a questo punto poi passerei prima di passare al caso di studio ad una breve disamina di quelli che sono diciamo gli studi sui social media e filtri sicuramente questa rappresenta un'area nuova da esplorare che è appunto rappresentata dai cosiddetti filtri facciali i filtri facciali come dicevamo prima sono spesso anche detti lenti oppure effetti e sono un tipo di realtà aumentata che altera il volto dell'utente in tempo reale sullo schermo del telefonino in realtà esistono anche filtri come ben sapete che non sono filtri di realtà aumentata ma sono filtri cosiddetti di post produzione quindi che non implicano il riconoscimento facciale e non implicano il riferimento alla realtà aumentata quindi questa divisione quindi filtri di post produzione e filtri di realtà aumentata rappresentano essenzialmente le due grandi categorie ai quali in genere si fa riferimento Snapchat è stato il il precursore di questa di questa diciamo tecnologia mi sono accorto di aver saltato una parte importante della della questione relativa ai filtri e la semiosi la sviscero en passant a parte il modello di Jakob Finucsul voleva anche fare riferimento ai filtri della semiosi e soprattutto con riferimento al modello della semiosfera di Juri Lothman infatti come ricorderete nella diciamo discussione nel delineare il modello della semiosfera Juri Lothman fa particolare riferimento proprio in forma diciamo esplicita al concetto di filtri infatti definisce il confine semiotico appunto come la somma dei filtri linguistici di traduzione come già sapete quindi passando attraverso questi filtri si ha una traduzione tra l'ambito extra semiotico e l'ambito semiotico per cui si ha l'introduzione nella cultura di nuovi testi mentre i testi che non sono più utili non hanno più una funzione in quella cultura vengono in qualche modo eliminati quindi si ha essenzialmente una doppia tendenza nella semiotica della cultura la tendenza al ricordo e alla archivazione, alla conservazione invece la tendenza all'oblio, al dimenticare tornando invece alla questione dei filtri facciali si diceva che una grande area di demarcazione è rappresentata dalla differenza tra filtri diciamo di post produzione e filtri di realtà aumentata diciamo che le tre secondo me aree di ricerca sull'argomento possono essere distinte in tre diversi filoni appunto quindi studi che si concentrano sulla relazione che esiste tra la percezione del sé quella che viene chiamata appunto body image e i filtri di instagram in modo particolare in questi studi spesso si fa riferimento ad una sorta di incongruenza un mismatch in inglese dicono che è rappresentato da come ci si vede rappresentati attraverso appunto immagini manipolate sui social e come invece si viene percepiti nella cosiddetta vita reale altri studi invece producono delle tipologie dei filtri a seconda dei canali usati degli effetti usati eccetera eccetera in modo particolare la sociosemiotica e la semiotica multimodale si è occupata molto di queste questioni e si può dire che il canale più usato è stato fino ad oggi in instagram vi sono poi studi che hanno invece che si sono focalizzati invece sul nesso tra filtri e nuovi canoni di bellezza quindi hanno proposto la questione della naturalizzazione dei nuovi canoni di bellezza che vengono appunto delineati vengono appunto identificati attraverso il riferimento a canoni che derivano da immagini manipolate attraverso i filtri credo di avere dieci minuti prima del termine della mia lezione dico bene? si si dice bene ma vai tranquillo ok spero allora di racchiudere in almeno dieci minuti massimo l'ultima parte che ha a che vedere con un caso di studio che secondo me è importante e si tratta essenzialmente di un documentario un documentario intitolato benvenuti in cecenia quindi welcome to cecenia è stato prodotto da un regista che si chiama david franz david franz è forse più famoso per un altro diciamo film che si chiama how to survive a plague questo documentario welcome to cecenia essenzialmente denuncia la persecuzione delle comunità lgbtq in cecenia ha offerto la possibilità a molti sopravvissuti a questa persecuzione di essenzialmente raccontare la loro storia e di fare in modo che questi temi scottanti venissero in qualche modo a galla dal 2017 come forse sapete il governo ceceno ha effettuato sotto la guida di Ramzan Kadyrov che è il leader ceceno una diciamo sistematica opera di epurazione di queste comunità in forma molto aggressiva infatti molti ceceni sono stati e diciamo perseguitati per la loro diciamo inclinazione sessuale oltre ad offrire la testimonianza di diciamo questi lgbtq ceceni il film è anche importante per altri motivi quindi quali sono le ragioni per cui è importante parlarne guardiamo un attimo una breve estratto tieni conto che noi non riceviamo l'audio quindi se vuoi ricevere l'audio deve passare dal tuo computer ok semplicemente la domanda che si pone quando si guardano immagini di volti rappresentati in questo documentario è se si tratta appunto di un volto reale o di un volto finto e fittizio infatti questo tipo di documentari ha utilizzato forse per la prima volta la tecnologia del deepfake e dunque del cambio di volto ciò che viene definito face swapping nella sua produzione quindi si tratta in questo caso di manipolazione del volto al fine della protezione dell'identità di soggetti particolarmente fragili l'idea era quella di usare appunto la contraffazione digitale al fine di proteggere l'identità personale di 22 soggetti che sono stati intervistati appunto in questo documentario e questo rappresenta una vera e propria novità l'indicazione di voler preservare l'identità personale viene svelata all'inizio del documentario infatti si scrive sullo schermo che per la loro sicurezza le persone in fuga sono state digitalmente camuffate quindi si ha una maschera digitale ma come viene raggiunta? il regista voleva essenzialmente dare la possibilità di testimonianza a questi ceceni che venivano perseguitati però voleva allo stesso tempo fornire dei formal restraints cioè lui si era essenzialmente dato dei principi particolarmente dal punto di vista formale in quanto non voleva usare tecniche di anonimizzazione come ad esempio i cosiddetti blaring le fasce diciamo nere oppure il pixelato eccetera eccetera quindi in genere queste sono diciamo varie tipologie di anonimizzazione della identità dal punto di vista visivo in genere vi è un volto sfocato oppure si usano delle barre nere spesso si usano figure in ombra oppure si adopera una maschera o un travestimento e si adopera anche la distorsione della voce alcuni esempi il cosiddetto blaring l'offuscamento del volto con una barra colorata l'uso appunto del dell'intervista usando l'ombra del soggetto come fa spesso il documentario report la trasmissione televisiva report su vai 3 oppure si parla di una sorta di maschera fonognomica che è una distorsione della voce a volte si raggiunge l'anonimato attraverso un cambio di contesto qui vedete per esempio il compositore e violinista Joshua Bell che fa una performance in incognito in una famosa metropolitana negli Stati Uniti ed è essenzialmente travestito da artista di strada e dunque non viene riconosciuto oppure si fa ricorso spesso alla maschera andrei adesso velocemente su questa parte Franz quindi voleva essenzialmente effettuare due operazioni voleva dare la possibilità ai soggetti di essere irriconoscibili ma voleva anche preservare le loro espressioni emotive originali quindi da un lato preservare segretezza e anonimato delle fonti e dall'altro lato trasmettere anche il loro senso di umanità la cosa che è interessante è che alla fine diciamo l'intuizione di Franz ha portato a un nuovo strumento che viene definito velo digitale che è un programma che dà la possibilità di duplicare il volto attraverso tecniche di deep learning per la sostituzione del volto del soggetto con uno completamente diverso che però rispecchia fedelmente ogni espressione dell'originale non ho moltissimo tempo a disposizione però volevo quantomeno mostrarvi quelli che sono stati appunto i tentativi di mascheramento della identità di questi soggetti fragili perché essenzialmente vi sono stati dei tentativi che hanno adoperato appunto in maniera esplicita proprio l'uso dei filtri in modo particolare prima di arrivare a questa tecnologia di camouflage digitale di velo digitale David Franz ha essenzialmente giocato un po' con le tecnologie a propria disposizione qui vedete ad esempio il soggetto che è stato essenzialmente coperto da un effetto che viene chiamato rotomation in cui viene appunto coperto da una faccia che è essenzialmente cartonizzata una sorta di faccia da cartone animato il problema però che ha riscontrato Francis usando questo effetto di rotomation è che non si ottiene in realtà un effetto di mascheramento e di anonimizzazione quindi diciamo ha dovuto optare per un altro tipo di anonimizzazione questo tipo di effetto è stato ripreso anche in passato pensate a Philip Dick e Scanner Darkly si parlava spesso in quel contesto di tuta disindividuante una sorta di scramble suit che rende il soggetto appunto una sorta di sfocatura vana, diafana e indefinita chi ha visto Scanner Darkly sicuramente sa di cosa sto parlando infine vorrei ricordare che appunto Franz prima di arrivare al velo digitale ha anche diciamo effettuato un'applicazione di filtri appunto che sono appunto dei filtri come maschere cioè cercava essenzialmente di nascondere il volto del soggetto quindi di anonimizzarlo quindi ha diciamo usato vari filtri alcuni addirittura provenienti da Snapchat ma il risultato non è stato quello sperato infatti il problema principale che ha riscontrato Francis nell'uso e nell'applicazione di questi filtri digitali era che sebbene davano una sorta di mascheramento di irriconoscibilità del volto del soggetto portavano però a un senso di disumanizzazione del soggetto considerato il contesto che appunto quello di un documentario che cerca di raccontare la storia di persone che sono state perseguite per la loro inclinazione sessuale capite bene che non era diciamo l'opzione migliore da qui poi il regista è arrivato alla diciamo declinazione che è quella finale dell'uso del cosiddetto filtro digitale che è una solita di maschera digitale un velo che dà la possibilità di sostituire il soggetto con il volto di una persona che ha prestato il volto per appunto dare la possibilità di raccontare la storia mi fermerei qui visto che ho raggiunto il tempo massimo a mia disposizione e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie infinite caro Remo per questa bellissima presentazione sempre molto molto chiara Remo è un po' il Piero Angela della semiottica non riesce a spiegare dei concetti anche molto difficili con sempre un tono estremamente chiaro e quindi anche una grande capacità didattica che tutti apprezziamo tutti tutti apprezziamo rieccoci allora bentornati bentornate e passiamo al secondo intervento di oggi che ci viene proposto da Federico Biggio Federico Biggio è uno studioso che ha concentrato i suoi sforzi nel costruire una teoria di sintesi tra la semiottica e l'estetica e in particolare concentrandosi sulla realtà virtuale sulla realtà aumentata sulle diverse forme di realtà estesa un campo nel quale è diventato un esperto ha scritto la sua tesi sull'argomento con una cotutela tra l'Università di Torino e l'Università di Parigi 8 e poi ha iniziato una carriera francese diciamo presso la stessa Università di Parigi 8 dove è stato attivo come ricercatore che gli pubblica molto sia in italiano che in inglese quest'oggi ci presenta un intervento intitolato il filtraggio oltre i selfie ti ringrazio molto Federico per questa tua partecipazione e ti lascio subito la parola grazie a te Massimo buongiorno a tutti e a tutte per questa calorosa accoglienza e presentazione mi confermi che si vede bene la condivisione del governo? si vede benissimo grazie allora il filtraggio oltre il selfie il mio oggetto di studio di cui vorrei parlarvi oggi è il non filtro ovvero questo effetto facciale di cui ha anticipato anche il professor Remo Gramigna nel suo precedente intervento questo effetto facciale di cui si è parlato anche nei scorsi interventi che utilizza la realtà aumentata e che in qualche modo non può essere definito come filtro quindi voglio fare un po' il bazian contrario e capire in che senso se e in che senso questi effetti facciali possono essere considerati dei filtri andando al di là di un approccio sociologico o comunque socio-semiotico che vedremo è da prendere in considerazione nella misura in cui ad esempio questi filtri sono spesso usati per il marketing online o per strategie di self branding e così via e in particolare ha scritto Ruggero Uggegni, professore dell'Università di Milano su questo tema che comunque almeno in Italia rimane uno dei pochi contributi che sono scritto sugli augmented reality filters che da ora in poi chiamiamo ARF così da non... con l'acronimo così da non ripetere ogni volta l'espressione ma andare oltre anche un approccio diciamo fenomenologico quindi quello che ci porterebbe a studiare anche i fenomeni a cui faceva riferimento già Remo Gramigna ad esempio la Snapchat o la body dysmorphia problemi di carattere anche cognitivo psicologico quindi un approccio più che altro semio tecnico da un lato orientato a cercare di capire se in questo in questa esplosione di immagini che utilizzano questi filtri quindi è possibile intracciare un fil rouge visivo quindi non che abbia tanto a che fare con l'uso sociale sui social media dell'immagine ma con la sua... con la sua... con il suo essere immagine in quanto testo visivo quanto con la sua produzione e creazione quindi dedicheremo poi anche qualche parola all'analisi dei sistemi tecnologici che sono... con i quali si creano effettivamente questi... questi... questi filtri specialmente software proprietari in particolare di... di meta e di snap ecco qui potete vedere alcune delle occorrenze principali delle... di... di Augmented Reality Filters come vedete è possibile trovare... cercare questo fil rouge per questo faccio un po' l'avvocato di... di una causa persa ma si tratta di... interrogarsi su questa... su questa possibilità partendo da alcune... questioni di... di ricerca ovvero... ehm... l'ARF è un filtro... ehm... e se sì... in che senso può essere definito un filtro... ehm... come vedremo... ehm... l'ARF al di là che possa essere definito un filtro o... o no... è una questione che poi lascia il tempo che trova... ehm... la sua nominazione è... ehm... è... è un oggetto che... sta man mano ehm... acquisendo ehm... ehm... rilevanza culturale in particolare ehm... anche nel campo... nel campo artistico sta... ehm... alcuni ehm... giovani creators stanno sperimentando le... ehm... linguaggi artistici... ehm... o comunque... è... è un oggetto che sta iniziando a... 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 ad acquisire... uno statuto artistico... ehm... poi da un punto di vista ehm... socio-semiotico... ehm... possiamo ehm... indagare il significato che gli utenti attribuiscono al filtro, alla sua creazione e ehm... al suo uso... ehm... mentre in ultima istanza dal punto di vista estetico... ehm... è sicuramente... interessante... comprendere in che... ehm... qual è il senso... se è lecito individuarlo... della stranessa intesa come irines... di ehm... di ehm... alcuni filtri... infatti come ehm... come... sarà già saltato ehm... all'occhio... ehm... questi filtri... ehm... di pensare con i termini di filtro... ovvero ehm... di filtri che esaltano ehm... l'immagine... ehm... filtri fotografici... ehm... ehm... esempio come... come... come quelli di Instagram che permettono di esaltare un certo colore... di esaltare ehm... i contrasti... di applicare un effetto seppia o... ehm... bianco e nero... eccetera... ehm... 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 e si contrappongono anche agli effetti ehm... diciamo ehm... in cui il filtro è più ehm... marcato... diciamo che ehm... se in un caso il filtro fotografico funziona per ehm... esaltare l'immagine in ehm... un filtro come quello... sicuramente non digitale utilizzato da Andy World ma che ehm... ci riferiamo a questo tipo di effetto ehm... ehm... in cui rientrano anche gli effetti LUT ad esempio ehm... acronimo che sta per lookup table e che ehm... si riferisce a un'operazione algoritmica per cui i valori della ehm... per cui i valori ehm... dei pixel della... che compongono l'immagine... l'immagine digitale... saprete che ehm... è una... è una... è letta dal dal computer come come una griglia in cui ogni ehm quadratino che è un pixel corrisponde a un valore questo ehm... lookup table table fa riferimento proprio a questa griglia in cui i valori vengono alterati e ehm... ehm... in direzione di un colore o ehm un altro. Ecco il... l'ARF si ehm... si distanzia anche da questo ehm... da questa tipologia di ehm... di effetto può dirsi probabilmente costituire un continuum in cui ehm non è più un un effetto ma risulta ehm staccarsi dal dal piano iconico dell'immagine diventando un oggetto, una forma di vita a sé stante in cui ehm... l'immagine di partenza è completamente ehm... ehm deformata e in questo senso si può trovare una ehm una ehm similitudine con il processo che sta alla base degli specchi ehm distorcenti come vedremo almeno nella misura in cui ehm si produce un effetto di ehm straniamento del del rappresentato ehm che è il tema ehm che è il tema ehm che ci permette anche di marcare la differenza fra gli ARF e i filtri di ehm estetizzazione. Allora per ehm per cominciare vorrei proporvi una carrellata di ehm una carrellata sulle tipologie di ehm di ehm di ARF che a mio parere possono essere individuate ehm ehm è una proposta e ehm è una proposta e sono ehm ben ben contento di discuterla poi insieme a voi per ehm per incrementarla. Eh partiamo dalla ehm ah come prima cosa diciamo che possiamo distinguere delle eh delle retoriche ehm ecco questa tastomia è modellata su eh delle retoriche. ovvero ehm retoriche visive ehm che permettono di descrivere ehm il il modo in cui il filtro è ehm adottato quindi sia da un punto di vista pragmatico sia da un punto di vista ehm visivo che cosa fa visivamente il filtro una volta che viene applicato al 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 video selfie. ehm c'è anche da dire che questo particolare oggetto di studio è ehm ehm in quanto è evidentemente emergente i mh ehm c'è molta confusione sia se chiamarlo filtro o se non chiamarlo filtro sia ehm sul fatto che vengono chiamati eh filtri anche ehm oggetti che ehm oggetti che non non interagiscono affatto con con il volto dell'utente ma che si limitano ehm a ehm aggiungere oggetti di varia natura nel ehm nelle nelle stories di Instagram o nei reel di TikTok ecco questo solo per dire che ci concentriamo ehm solamente sui ehm filtri ehm facciali ehm ma che appunto per contestualizzare eh c'è da dire c'è da dire questo. Allora partiamo da ehm ehm una retorica della eh estetizzazione che è quella diciamo eh più più conosciuta che è stata anche più più studiata in campo ehm nel campo delle scienze umane e ehm anche da psicologia. il filtro in questi casi rende il selfie più esteticamente attraente e sensuale può funzionare da eh dalla rimozione di imperfezioni al make up dagli aggiustamenti dei tratti esomatici alle sue colorazioni. Ehm è il filtro classico che serve a a truccare quindi in qualche modo a nascondere, celare, camuffare e migliorare. Ehm ehm in qualche modo è anche in continuità con il filtro come eh menzogna al quale si eh riferiva eh remogramminia prima. Ehm di norma quindi è un filtro a maglia fina eh che tende verso la la trasparenza. Ehm al massimo è il il nome del filtro che può funzionare come indice quindi svelare la eh la 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 presenza del filtro. Infatti bisogna comunque fare una distinzione tra eh applicazioni come FaceTune o Meitu. Ehm in cui ehm ehm algoritmi di ehm artificial intelligence ma ma non solo cioè permettono di ehm migliorare eh una fotografia del volte che poi viene eh pubblicata come eh eh se fosse una fotografia eh normale ehm o comunque non non filtrata. Non apriamo mille ehm argomenti. In secondo luogo possiamo trovare una retorica della distorsione o deformazione. In questo caso appunto il filtro usato per distorcere o deformare l'immagine del volto o alcuni suoi attributi quali fronte, occhi, naso, bocca. In questo caso è il caso del FaceMesh ed è eh un po' il filtro nella sua forma eh più pura che richiama il filtro eh fotografico. Infatti in alcuni casi come eh nel primo sulla 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 sinistra queste tipologie di filtro erano già presenti già nelle prime versioni di di Photoshop ehm ad esempio. Eh abbiamo poi una retorica della iscrizione eh in cui il filtro è eh utilizzato per ancorare tatuaggi, maschere, make up non necessariamente abbellenti e ehm e questa è evidentemente la 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 retorica più eh più comune. C'è da dire anche che ho fatto questa eh ricerca su ehm il database Lenslist ehm che eh da qualche credo pochi anni ehm ehm salva sul proprio sul proprio portale le eh i filtri Instagram sia di utenti che di aziende ehm. ehm di 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 Instagram, TikTok e Snapchat e ehm è arrivato a un numero cospicuo di ehm quindi di di filtri. Eh in questi casi qua ehm tale retorica è finalizzata da scrivere all'utente una certa caratterizzazione appunto come abbiamo detto non meramente estetica in quanto può essere usato anche ehm nel nel marketing. Così come a contestualizzarlo ehm come contestualizzare il volto in relazione a un tempo e a un luogo. Mmh ad esempio se utilizzo il filtro mi permette di ehm di ehm di ehm indossare un cappellino di una squadra di football nel momento in cui sono alla a una partita di football. ecco ehm 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 in quel caso lì eh il filtro funziona evidentemente come marca ehm 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 enunciativa del del luogo in cui mi trovo. ehm possiamo dire che questo è anche il primo caso in cui il filtro funziona effettivamente come eh enunciazione enunciata senza parlare eh senza entrare troppo nella nell'argomento. ehm ehm eh diciamo che tutti i filtri e eh la retorica dell'enunciazione enunciata è evidentemente ehm rilevabile. Mmh ve ne sono alcuni esempio in questo, questa tipologia in cui ehm tale tale retorica è più esplicita. passiamo poi alla retorica della modularizzazione o scomposizione in cui eh il il volto dell'utente viene duplicato o scomposto ma senza un'alterazione del livello plastico diciamo eh il il volto non viene di per sé ehm eh di per sé alterato nelle sue conformità ma ehm ehm ma solo scomposto. ehm in qualche modo è ehm in qualche modo disordinato. Ehm ehm seguiamo poi con la retorica dell'incorniciamento in cui il filtro è usato per inserire l'immagine del volto all'interno di una cornice o di simulare un processo di registrazione a più fasi anche in questo caso evidentemente la retorica dell'enunciazione enunciata è ehm fondamentale. una retorica dell'immersione in cui il filtro è usato per inserire sfondi, glitter, oggetti concavi tridimensionali che producono un effetto di immersione del volto in un ambiente virtuale. ehm sia quindi come sfondo sia eh in primo piano e spesso va in coppia con eh effetti di estetizzazione e eh incorniciamento. e come vediamo può essere più o meno pesante quindi portare a funzionare mhm per esaltare in maniera eh più o meno pronunciata ehm il il video selfie. particolarmente interessante ehm come ha notato Ruggerio Eugenie è la retorica del fandom o del marketing in cui il filtro usato per iscrivere all'immagine del volto attributi di vario tipo eh appartenente all'universo narrativo sia reale che immaginario che si intende condividere. ehm qualche modo si tratta della 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 pubblicazione di post eh ma come abbiamo detto all'inizio ehm si tratta anche di un contesto che le 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 marche stanno esplorando per quanto riguarda il marketing eh online. in particolare Ruggerio Eugenie si interroga su ehm su ehm a chi attribuire l'enunciato e i suoi contenuti in una ehm eh procedura di ehm che va dal disimpegno che corrisponde al debraillage a un coinvolgimento che eh corrisponde all'embraillage. in un primo in un primo caso in un primo momento scrive Eugenie eh l'enunciato viene attribuito e abitato da ehm non persone cioè ehm io guardo il prodotto di un un augmented reality filter senza dare un'identità precisa alla mia figura riprodotta nello schermo e solo in una seconda fase subentra l'engagement cioè all'interno di una distanza di distribuzione dei ruoli agiti tra i diversi soggetti gli utenti riconoscono l'enunciato audiovisivo come proprio e quindi si qualificano come eh enunciatori eh in particolare ehm ciò che fa scattare secondo Eugenie questa eh identificazione è la è proprio l'attività sensi sensori motoria che i soggetti mettono in atto e che eh nel momento in cui producono materialmente eh l'enunciato e che porta quindi a considerare come proprio il il video il video selfie ehm vabbè qui ci sarebbero anche dei dei video l'audio non è particolarmente importante ma ehm passiamo poi alla retorica dell'interrogazione o del quiz in cui la RF è usato per giocare a un quiz randomico il cui risultato è atto a produrre conseguenze espressive sul volto dell'utente ehm questo probabilmente tutti siamo eh sappiamo che cosa si si riferisce eh interessante osservare ehm come poi il focus dell'attenzione sia tanto sul risultato del filtro che sulla reazione appunto del volto dell'utente eh una volta che si eh una volta che legge il risultato eh del del quiz eh diversa eh diversa in particolare la retorica del gaming in quanto il filtro è usato per iscrivere il volto all'interno di un ambiente giocoso in cui spesso ma non necessariamente i suoi movimenti corrispondono alle alle mosse eh diverso a mio parere è dall'interrogazione del quiz presente in quanto la retorica del gaming è effettivamente è è è meno egocentrica della retorica dell'interrogazione dell'interrogazione del quiz in cui eh vedete anche nell'impostazione dell'immagine ma eh proprio dicendo che è tutto focalizzato sulla reazione del volto ehm mentre invece nella retorica del gaming eh evidentemente l'attenzione è più rivolta verso ehm il gioco quello che si fa ehm troviamo poi una recorica molto interessante dell'occultamento del camouflage in cui il filtro agisce inserendo elementi che nascondono porzioni o totalità del volto rendendolo difficilmente intellegibile questo è sicuramente uno dei dei filtri più interessanti e complessi da 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 situare in quanto eh può ehm funzionare in in accordo a diverse eh a diversi eh a diversi scopi ad esempio il filtro artistico spesso utilizza occultamento camouflage per far risaltare il il filtro e meno l'immagine del eh dell'utente abbiamo poi una ritorica della paridolia eh o paridolia in cui il filtro agisce selezionando una circoscritta quantità di attributi che vengono trasferiti eh dal 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 video selfie al alla testura del filtro producendo l'effetto di appunto un volto che emerge da un da un materiale che effettivamente ehm volto non ha ehm in 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 origine infine eh una retorica dell'animalizzazione ehm da cui eh da cui si è partita da cui è partita la tradizione degli augmenti reality filters la seconda immagine ehm è appunto una di quelle che eh il 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 filtro che permette di aggiungere orecchie e naso eh animaleschi è stato uno dei primi filtri a a essere a circolare negli nei nei social media e eh anche in questo caso si va da maschere completamente ostruenti a eh attributi attributi specifici bene ma comunque eh per passare a ehm questioni teoriche ehm ehm la RF si situa ehm utilizza come abbiamo detto il formato del selfie quindi è una forma eh breve ehm il al punto di vista tecnico essi ehm strutturano sì la tecnologia della eh della realtà aumentata cioè ehm no ho sbagliato cioè funzionano aggiungendo layer parzialmente trasparenti per aumentare esteticamente il volto dell'utente visualizzato come immagine digitale ehm ma è particolarmente importante almeno se ci occupiamo di questo del video selfie ehm il fatto che sia un selfie e che quindi sia uno scatto riflessivo che una persona fa a se stessa o in alcuni casi con con altri ehm in un certo caso abbiamo mh si è già detto negli scorsi incontri che ehm questi strumenti funzionano ehm permettendo una logica cumulativa e di controllo della propria immagine ehm che ehm che appunto quindi permette di ehm di di avere una strategia sulla propria comunicazione sulla propria comunicazione sulla comunicazione del sé ma possiamo anche ricollegarci alla questione della dell'economia dell'attenzione hm che accendavamo prima ehm ehm e all'uso di ehm di ehm RF come ehm dispositivi di cattura dell'attenzione se vogliamo sicuramente in caso di Google Arts and Culture per esempio in cui abbiamo filtri di questo tipo che permettono di simulare di assumere le sembianze di opere d'arte famose, in questi casi siamo naturalmente di fronte a filtri che funzionano per l'engagement quindi per la cattura dell'attenzione c'è poi tutta la questione della privacy ad esempio questo oggetto è messo in relazione ai problemi, a discorsi di stigmatizzazione dei social network quindi in particolare un documentario che nel 2015 ha vinto un web doc Stealing Your Feelings di Noah Steven Levinson ha usato proprio strategie di gli augmented reality filters all'interno del suo documentario che si vede su Mozilla, il browser per come elemento narrativo per sostenere questo discorso sul furto delle emozioni operato dagli algoritmi di sentiment analysis e facial recognition dei social network e in particolare di quelli fondati sui video selfie in generale una tastonomia delle questioni è proposta sempre in questo articolo di Eugeni in cui i RF sono definiti come dispositivi strumenti di controllo per la gestione di una serie di risorse tecnologiche quindi gestione di luce, pixel e dati sociale, micro sociale gestione di risorse di input energia, tempo, attenzione e di output identità, reputazione e autoreputazione ma anche politico, economico gestione di risorse informative, economiche e finanziarie ora per rispondere alla domanda dalla quale siamo partiti la RF è un filtro e se sì in che senso una risposta che si può dare è la RF è un filtro in quanto dispositivo di intercettazione in questo senso la RF è un velo digitale come si diceva prima in cui di fronte al quale il corpo umano e il volto e il busto deve muoversi in qualche modo per essere intercettato e quindi e quindi funzionare se questo non avviene se togliamo il filtro ci troviamo di fronte a delle situazioni strane ecco questo in particolare è un filtro di camiglia card recente cioè in questo senso l'immagine è filtrata quindi artificiale e questo ci porta a considerare l'opposto il non filtrato e quindi il naturale se vedessimo queste immagini senza filtro è un po' come quando guardiamo i turisti che si fanno una foto di fronte alla torre di Pisa da una prospettiva che non è quella della torre di Pisa e di conseguenza vediamo pose strane buffe e che ci portano a riflettere sul ruolo di questi filtri nell'ecologia dei media ad esempio anche quando notiamo anche quando ci scontriamo con discorsi che smascherano ironicamente tecnologie computer vision come in questo caso in cui è un'immagine che si spiega da sola l'utilizzo di una di un filtro per la cartonizzazione in cui che sbaglia o comunque fa una sintesi sulla base di informazioni non proprio corrette e ok quindi dispositivo di intercettazione questo si vede particolarmente bene andando ad analizzare l'interfaccia di creazione di software come appunto Spark Lens Studio di Per che se qualcuno di voi ha mai avuto relazione cioè ha avuto mai modo di utilizzare software per la progettazione 3D e videografica riconoscerà un po' il template funziona un po' come Adobe Photoshop o After Effects nel quale abbiamo un una finestra centrale tridimensionale e delle sezioni laterali in cui è possibile importare dei materiali dei sia dei materiali sia degli oggetti algoritmici o asset che permettono di fare delle operazioni sia un pannello che permette di controllare i parametri di ciò che è stato importato e infine un pannello relativo all'anteprima di quello che stiamo facendo in particolare questo è un dato interessante che in tutti questi software il punto di visione è rappresentato da una piccola icona della cioè una macchia una cinepresa una cinepresa fra l'altro antica che ci fa ricordare come sebbene stiamo utilizzando un dispositivo mobile il più delle volte e non siamo al cinema comunque siamo nel regime della spettacolarizzazione audiovisiva se qualcuno ha studiato film studies si ricorderà che il cinema nasce nelle fiere circensi prende il nome di cinema delle attrazioni anche da un punto di vista estetico e non è forse sbagliato trovare delle correlazioni anche estetiche fra ARF e cinema della trazione ma lo vedremo poi dal punto di vista del software tornando all'analisi del software è interessante come questi ARF e questi software come Spark e Lens Studio il processo di creazione di un filtro passi conferisca moltissima importanza all'uso di template ovvero progetti già fatti in cui che si devono importare e sul proprio cioè che si devono importare e andando a andando a manipolare giusto qualche parametro in software take command libro di Levmanovic nel 2013 appunto rispetto alla cioè che la creazione digitale si contraddistingueva dal punto dal punto di vista che con Adobe Photoshop la creatività non si sviluppava tanto andando ad agire direttamente sull'immagine ma su parametri alfanumerici che permettevano di fare delle operazioni estetiche qui siamo di nuovo lontani dal parametro in quanto difficilmente in quanto questi software invitano a invitano costantemente guardate quante tipologie di template esistono solo tra la lettera a e la lettera c su lens studio quindi per dire che si dovrebbe fare quasi uno studio delle demo e dei template in questo seto perché stanno diventando così numerosi ok l'RF è comunque anche una una storia se vogliamo e mi avvio così anche verso le conclusioni questo in particolare è Jeremy Bailey sono due video dei primi anni 2000 in cui si utilizzava per la prima volta la facial recognition in ambito artistico in in un primo caso quello quello sulla destra sulla destra l'applicazione di face tracking permetteva di trasmettere diversi programmi televisivi sul volto e questa performance non era solo un'imitazione del del linguaggio logorroico della televisione infatti l'audio non è particolarmente importante però vedete che muove la bocca sta parlando in continuazione senza fermarsi ma è anche una previsione piuttosto veritiera ovvero secondo lui il futuro della televisione sarà all'insegna della condivisione dell'indossare dimostrare ciò che ciò che piace oggi basti pensare a shorts e forme brevi di intrattenimento in cui i rf giocano un ruolo importante il progetto inoltre si basa anche su face hosh che è uno strumento per la prototipazione di interazioni basate sul volto che prevedeva un'interazione che prevedeva esempio di creare dei suoni a partire da un oscillatore collegati a movimenti del volto il volto sulla il video sulla sinistra invece oggi si intitola the future of marriage sarebbe oggi particolarmente problematico da pubblicizzare in quanto Jeremy Berry dichiara di aver creato la maschera di unicorno per le donne che vogliono mantenere intatta la propria bellezza questo del 2013 non si potrebbe immaginare quanto l'uso pervasivo che sarebbe stato per i filtri il viso e gli unicorni nel giro di pochi anni abbiamo poi comunque nell'arte interattiva un sacco di esempi a cui possono essere rimandati gli RF l'opera di Loren Mignot e Christia Sommer sulle Apismen diciamo in generale tutte le opere che usano la 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 facial recognition le il il body tracking in esempio in musei se ne occupata Cristiana vuoto in un articolo sull'opacità dell'immagine e e così via in particolare la nella cultura contemporanea abbiamo avuto nel 2021 ad esempio in Italia una una Instagram filters exhibition curata da Valentina Tanni e informazione di costume giusto per tratteggiare il il panorama socio-mediatico naturalmente questi artisti si esprimono in sottolineando una pratica artistica volta a opacizzare il filtro rispetto a i filtri estetizzanti evidentemente filtri estetizzanti che nella storia sono stati accusati di whitewashing ad esempio o di rubare le questo è il progetto al quale facevo riferimento prima questo invece è un caso di filtri legati al black light matter ecco ma per concludere volevo parlare dello specchio istorcente ovvero dato che abbiamo capito fino a questo punto come una delle particolarità dell'ARF sia l'opacizzazione del filtro mi sembra particolarmente adeguato richiamare il saggio sugli specchi di Umberto Eco saggio famosissimo in cui Umberto Eco dedica anche qualche paragrafo allo specchio distorcente specchio distorcente cioè lo specchio in generale per Eco è un fenomeno soglia che marca i confini tra immaginario e simbolico e in particolare quello deformante ha una funzione allucinatoria da un lato scrive Eco l'individuo prova piacere nel sottoporsi all'alterazione della propria percezione a far schernire la propria visione però da un lato ci divertiamo dall'altro godiamo delle caratteristiche allucinatorie del canale quindi non so spiegare cosa sia uno specchio distorcente perché penso che più o meno tutti abbiamo avuto esperienza nei Luna Park o comunque quando eravamo ragazzini dall'altro scrive Eco ci poniamo in una vacanza pragmatica in cui accettiamo che gli specchi che devono dire la verità di norma non la dicano quindi questa sospensione dell'incredulità non riguarda tanto l'immagine quanto la sua protesi quanto la protesi trasformante è un po' quello che succede anche nelle nelle illusioni ottiche in cui appunto inserendo un bastone nell'acqua vediamo che il bastone prende una direzione altra rispetto a quella che ci aspettiamo quindi in questo caso applichiamo regole di proiezione sul su ciò che vediamo e quindi lo accettiamo come come plausibile particolarmente interessante è quello che scrive a riferimento del della possibilità che questa immagine riflessa nello specchio distorcente abbandoni il referente cioè l'immagine di sé e costituisca un contenuto sul quale si fantastica quindi una tentazione continuamente repressa scrive ecco controllata dalla coscienza della singolarità del fenomeno e che porta a ragionare a freddo su una situazione allucinatoria è possibile quindi ipotizzare sul fatto che il il la RF funzioni in questo modo e che trovi le sue e che trovi le sue radici nella nell'arte interattiva nelle esposizioni interattive tuttavia sottolineando il fatto che essendo circolando nello spazio dei social media essi diventino appunto virali ma siamo comunque più abbiamo una tensione più egocentrica personalizzante quindi come quella del selfie rispetto a una exocentrica orientata verso la 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 potenzialità del del canale in quanto enunciazione enunciata ipotizzabile anche una forma di corresponsabilizzazione verso l'estetica della beautification su questo abbiamo abbiamo speso abbastanza tempo credo alla fine il terzo punto in verità è un work in progress sul quale spero di lavorare in futuro che riguarda le co-occorrenze ad esempio è possibile che la RF come format presenti delle co-occorrenze ad esempio tra i filtri utilizzati per sostenere una causa sociale come Black Lights Matter o qualsiasi altro tipo di causa sociale e gesture particolari esempio land tracking oppure che le retoriche di gaming siano associate a retoriche di occlusione in cui appunto come abbiamo detto a emergere il gioco e non o in cui retoriche di beauty di estetizzazione siano associate a retoriche di framing e così via credo di essere rimasto nei tempi comunque ho concluso vi ringrazio per l'attenzione e e e a attesare a attesare a attesare Grazie a tutti